La musica è più rilassante Abbiamo davanti una bellissima cascata Ti piace? Quasi a zero Oh, neanche una paraola esce Di solito dovrebbe uscire almeno una paraola C'è molto verde qui Mi piace questo posto È rilassante Mi piace anche a te? Oh, neanche una paraola Per me fanno fatica Ma ce ne sono troppi Che non riescono Perché non c'è una guida C'è Laura qui con noi Laura Puoi venire qui? Per favore Oh Barbara Puoi venire qui? Per favore Oh, è la prima sessione che faccio Quindi è veramente, veramente strana Oh, neanche una parola Senti Neanche una parola Vedi quello che vedo io? Oh, è la prima sessione che non è mai successo Che non smurta fuori una parola So, che sei qui, che sei Niente Chiudiamo la sessione Vediamo se mi rispondo Vediamo se mi rispondo Va bene, facciamo così E mettiamo I bachi in reverse Eco Reverbero Emo Vediamo Emo Grazie.